E' vero che Renzi è uscito con un suo spot dicendo io ho fermato me stesso, dicendo ai comuni di non aumentare l'aliquota, vero, però non aveva messo i soldi giusti nel fondo giusto per consentire queste detrazioni, è al di là di... Sì, sì, prego. Sì, sì, è vero, fa parte delle interlocuzioni che deve avere con i sindaci, però quella slide... No, 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 scusi, è vero quello che dice... Beh, i 625 milioni che erano stati messi l'anno scorso come misura di supporto all'introduzione di detrazioni in questo momento non sono stanziati in bilancio. Quindi significa che noi avremo un aumento delle tasse sulla casa di 625 milioni. Se non vengono stanziati in parte potrebbero esserci da parte di alcuni comuni la rinuncia ad alcune detrazioni che avevano... Ma il Presidente del Consiglio ha detto che non aumenteranno le tasse, eh? Ho capito, ma infatti ha anche detto che ci sarà un incontro a breve con Lancia e quant'altro perché è una delle partite... Lui c'è confronto all'americana, però se c'è soldi o non c'è soldi... Ma secondo lei i soldi si possono trovare o no?